Ma che cazzo, ho fatto un solo passo, lo conosco, è il nuovo livello, in Asia hanno detto che è troppo facile, quindi hanno aggiunto questa difficoltà. Una foglia, era avvelenata? Prova a premere L2, devo bloccare il sole? Finalmente un po' d'azione. Sei ingrassato caro. È un danno emozionale, vuoi un po' di terapia? Prova a bloccarlo? Sei ingrassato, cerchi ancora di fare l'attore. Ciao! Adesso basta, dammi un codice. Sai, forse non penso che ti spedirò da creatore. E va bene, L2 cerchio cerchio triangolo. Quadrato cerchio cerchio triangolo. Wow wow wow, quello è per caso un codice? Sembra che tu, amico mio, stia giocando alla difficoltà sbagliata. Abbiamo creato queste difficoltà in modo che i poppanti di cinque anni cinesi possano battere il nostro cazzo di gioco in cinque minuti! Ma come fanno ad essere così pro? Io non riesco neanche a finirlo questo gioco e sono io che l'ho creato! Io l'ho creato! Quindi noi ti faremo ricominciare con la modalità facile! Oh! Ma cu- Ma cu- Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo!